Io ieri ho detto che nel caso in cui dovesse arrivare un'eventuale sentenza della Cassazione non avrò difficoltà, se sarà utile ad affrontare la questione anche in agosto sul tema della eventuale interdizione, ma parlavamo di ipotesi che è più opportuno commentare in esito ad una sentenza della Cassazione che ancora non c'è. Grazie a tutti.